Ci siamo, l'evento più grande dell'estate teatina che ospiteremo quest'oggi in città è arrivato. Avremo una delle tappe più importanti del tour, di questo importante tour che unisce due grandissimi artisti italiani, quali sono Venditti e De Gregori, li ospiteremo appunto nell'anfiteato della Civitella e quindi volevamo solo specificare alcune raccomandazioni e dare altre informazioni di servizio. Abbiamo istituito un bus navetta che partirà dal parcheggio del Palatricalle e per ogni mezz'ora a partire dalle 18.30 arriverà fino a Piazza Escrivà dove chiunque è in possesso dei biglietti si potrà recare già dalle 19.30 presso l'anfiteatro della Civitella per prendere posto appunto per assistere all'importante concerto. Siamo molto soddisfatti, l'organizzazione sta andando tutta per il meglio, già ci sono parecchi turisti in città e quindi è un segnale positivo anche per le tante attività commerciali, ristoranti e bar soprattutto che quest'oggi e questa sera lavoreranno in particolar modo e per i tantissimi hotel e band and breakfast che hanno registrato il tutto esaurito. Siamo davvero soddisfatti di come questi eventi stiano dando significativamente benefici alla nostra città. Grazie al Sindaco, grazie a tutta l'amministrazione e a tutti coloro che stanno collaborando per questa fantastica estate tiatina.